Signora Presidente, signor Ministro dell'Economia, signora Ministra dell'Agricoltura, onorevoli colleghi, Italia Viva dice sì alle misure eccezionali che il Ministro dell'Economia ha appena proposto, perché in tempi eccezionali la risposta non può che essere unanime. Tutti con il Governo, onorevoli colleghi, tutti giochiamo con la stessa maglia e affidiamo a lei, signor Ministro, la responsabilità di questa scelta. Posso testimoniare che poche persone come Roberto Gualtieri in quest'Aula e fuori hanno una sensibilità profonda per i temi dei valori europei, dei rispetto dei parametri europei e delle regole europee. È quasi un contrappasso che tocchi a lui chiedere lo scostamento più ampio. Ma noi sappiamo insieme a Gualtieri, all'onorevole Gualtieri, che non stiamo chiedendo soldi all'Europa. Noi stiamo chiedendo soldi ai nostri figli, perché stiamo facendo più debito. È giusto farlo in questo momento, ma spendiamoli bene, questi soldi, e spendiamoli nel modo che serve per affrontare un'emergenza incredibile. Non è poco più che un'influenza, come hanno detto in tanti. E non è neanche un'epidemia. È una pandemia. È una incredibile vicenda epocale, per alcuni aspetti, che toccherà a tutti i Paesi. Da qui, dalle aule del Parlamento italiano, diciamo ai nostri amici francesi, tedeschi, spagnoli che ciò che noi stiamo vivendo oggi, loro lo vivranno tra una settimana. Che loro non possono mettere la testa sotto la sabbia. Che loro non possono nascondere la polvere sotto il tappeto. Perché chi segue i numeri, e Dio solo sa quanto sia importante seguire i numeri e non i sentimenti populistici, chi segue i numeri sa che ciò che sta avvenendo negli altri Paesi è esattamente ciò che stava avvenendo otto, nove giorni fa in Italia. Allora è inutile, amici spagnoli, chiudere i voli con l'Italia. Bisogna che chiudiate le scuole in Spagna. Bisogna che le misure che noi abbiamo preso, forse persino con un po' di ritardo, siano prese in tutta Europa. La zona rossa non va da Osta a Ragusa. La zona rossa tocca tutta Europa, piaccia o non piaccia. E noi lo diciamo non perché Malcomune e Mezzogaudio, ma perché invitiamo i nostri fratelli europei a non fare gli errori che abbiamo fatto. Perché è giusto dirselo. Abbiamo commesso degli errori. Anche noi abbiamo pensato che bastasse bloccare i voli diretti con la Cina per risolvere il problema. Non era così. Oggi siamo in presenza di misure eccezionali dal punto di vista sanitario. Noi le abbiamo prese e dobbiamo prenderne. Toccherà anche agli amici europei fare altrettanto finché lo tsunami arriverà negli Stati Uniti. Queste misure eccezionali che il Governo ha preso ci vedono convintamente al vostro fianco, signori ministri. Noi abbiamo apprezzato l'allargamento della zona rossa tutta Italia. Credo che dobbiamo abituarci a darci dei tempi, perché queste misure che abbiamo preso negli ultimi giorni vedranno i propri effetti tra sette e dieci giorni. Penso che ci voglia un po' di buonsenso e di rigore. Noi non possiamo fare un decreto al giorno, perché se facciamo un DPCM al giorno non diamo segno di solidità istituzionale, diamo segno di schizofrenia. Diamoci una linea, decidiamola insieme e portiamola tutti avanti senza giocare costantemente alla polemica. E da questo punto di vista noi apprezzeremo comunque la scelta che farà il Governo, avendo suggerito in spirito di umiltà e di collaborazione che venisse indicato e individuato un commissario straordinario per l'emergenza, perché l'esperienza dimostra che in questi casi il commissario straordinario funziona. Il Presidente del Consiglio ha detto che non è un terremoto. Sono d'accordo con lui, è peggio. Anche perché il cratere è tutto il Paese. Anche perché il dato oggettivo che noi abbiamo in questa fase è un dato di crescita esponenziale dei territori coinvolti. L'importante è che qualsiasi sia la decisione, la rispetteremo, ci sia una modalità di comunicazione che sia una modalità di comunicazione istituzionale, non dal reality show. Perché se si dice che si chiudono delle regioni, non si passano le veline ai giornali prima. Perché se questo accade, si vanifica uno degli atti più qualificanti la storia di questa emergenza. Penso, signor Ministro, che vada rafforzata la gestione dell'ordine pubblico, a cominciare dalle carceri. Non è una stagione facile quella in cui si chiudono pezzi interi del Paese. La più grande limitazione alle libertà costituzionali dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Giusta, doverosa, sacrosanta. Rafforziamo la situazione dell'ordine pubblico e non si permetta che si faccia finta di niente di fronte a dodici morti nelle carceri italiane. Che qualcuno, mi riferisco ai dirigenti di prima fascia, si assuma la responsabilità e si dimetta oggi stesso per quello che è accaduto. Sulle misure economiche, Ministro Gualtieri, siamo totalmente con lei. Da quella parte del tavolo, lei, Ministro Bellanova, ci sono persone che sanno che cosa significa la scommessa economica, liquidità, prestiti per le famiglie, per tutti i mutui, non soltanto per quelli a 30 mila euro. Le partite IVA, che corrono il rischio di essere cancellate e nascoste, la cassa integrazione, tutto ciò che lei ha detto ci vede convintamente al suo fianco, signor Ministro. Nei prossimi giorni lo saremo a testa alta. Mi lascio, signora Presidente, concludere con un pensiero che va oltre l'aspetto sanitario e l'aspetto economico. Non si trova più un Novax in Italia. Non si trova più nessuno che in questo Paese contesta ciò che dicono i virologi, contesta ciò che dice la scienza, la medicina. Io credo che questo non sia merito di una forza politica o di un'altra. Questo è merito di quella straordinaria abnegazione e dedizione delle ricercatrici e dei ricercatori, delle infermiere e degli infermieri, delle dottoresse e dei dottori, di chi ha messo la scienza avanti alla superstizione. Penso che questo sia un dato di fatto importante, perché nei prossimi mesi assisteremo in tutto il mondo a una nuova corsa sulla Luna. Sarà la corsa alla cura, forse più vicina di quello che si pensa, e sarà una corsa al vaccino, ancora non così vicino, perché comunque, come sanno autorevoli colleghi, richiede dei momenti di test che sono insuperabili. Però quello che è certo è che questo Paese dimostra di essere la casa della scienza, il luogo nel quale la fatica umana, personale, bellissima di quelle infermiere che lasciano le foto che abbiamo visto in questi giorni, ci rende orgogliosi di essere italiani, altro che superstizioni Novax. Ora è il momento di stringere i denti, iniettando liquidità nel sistema e dicendo però che ci sono dei valori ai quali noi non rinunciamo. Possiamo chiuderci in casa per qualche giorno, per qualche settimana, non possiamo rinunciare ad essere noi stessi, ad essere umani, ad essere italiani. Ho ricevuto un'email, anzi una lettera, di una signora che dice che sono preoccupata perché sono anziana, se mi prende il coronavirus da quello che leggo potrei non essere io quella scelta per essere messa in terapia intensiva. E magari, dice con un filo di commozione, il mio funerale non sarà neanche un funerale perché hanno sospeso anche quelli. Si è fatto passare per sbaglio da parte di tanti un messaggio che la vita di un anziano vale meno della vita di una persona giovane. Ora è evidente che tutti noi, se dovessimo scegliere, daremmo la vita per i nostri figli. Ed è quello che ci rende umani, che ci rende persone. Non c'è ombra di dubbio. Ma quello che dobbiamo fare come comunità di donne e uomini, come senatrici e senatori, è ricordare innanzitutto a noi stessi che dare il messaggio che la vita di un anziano vale meno è profondamente sbagliato. Noi siamo un grande Paese perché abbiamo la forza, l'intelligenza, la saggezza di riconoscere negli anziani la roccia della nostra vita. E allora, caro Ministro Gualtieri, cara Ministra Bellanova, signori del Governo, noi siamo al vostro fianco. Non dimentichiamo che in questa sfida non c'è soltanto la sfida economica e sanitaria dell'Italia, c'è la sfida per restituire a questo Paese il gusto, la bellezza, l'onore e la dignità di essere un Paese che difende i propri valori. Se gli altri Paesi in Europa non l'hanno capito, sappiano che nelle prossime ore toccherà anche a loro. E noi saremo al loro fianco perché da questa emergenza sanitaria, economica, valoriale si esca tutti insieme.